La problematica dei lupi continua a persistere, lei Rossi ha presentato una proposta di legge su questo. Sì, una proposta di legge alle Camere per chiedere delle deroghe alla normativa europea e fare come alcuni paesi europei che in caso di sovrannumere, in caso di attacchi cronicizzati aprono la selezione al lupo così come avviene per altre specie animali. E ne discuterete quindi in commissione? Sì, la proposta di legge alle Camere andrà prima in commissione e poi andrà in consiglio e appunto una proposta alle Camere che a loro volta dovranno approvare questa proposta di legge. Qual è la sua preoccupazione? La preoccupazione è una preoccupazione che arriva dal territorio, anche gli ultimi fatti di cronaca attestano appunto di attacchi di lupi e lupi ibridi, per me non c'è differenza. C'è un problema alla sicurezza dei cittadini, tanti politici si voltano a questo problema. Io credo che sia arrivata la responsabilità di agire e si può agire con atti concreti come appunto questa proposta di legge. Ripeto che questi attacchi non avvengono più, come ben sapete, solo ad animali domestici o animali di allevamento, ma avvengono anche nei confronti di persone e avvengono anche nei paesi, alle porte delle nostre città. Quindi la situazione è ben degenerata e le istituzioni devono avere la responsabilità di intervenire.